Con la posa delle pietre d'Inciampo entrano nel vivo le manifestazioni organizzate dal Consiglio regionale del Piemonte e dal Comitato Resistenza e Costituzione in occasione della Giornata della Memoria. Sono 15 quest'anno le targhe di ottone incastonate su cubetti di cemento che a Torino l'artista tedesco Gunther Deming ha posato davanti alle abitazioni di altrettante vittime della deportazione nazifascista. Ogni pietra riporta la frase qui abitava, seguita dal nome della vittima e dalla data della scomparsa. La commemorazione pubblica si è tenuta in via San Donato 27 davanti all'abitazione di Vittorio Staccione. Calciatore di Torino, Fiorentina e Cremonese, chiusa la carriera sportiva, lavorò alla Grandi Motorina Vali Fiat. Antifascista e attivista fu arrestato dopo gli scioperi del marzo del 1944 e morì nel campo di Gusen il 16 marzo del 1945. Gli appuntamenti per le celebrazioni della Giornata della Memoria proseguiranno per tutta la settimana. Il 23 gennaio alle 17 a Palazzo Lascaris verrà presentato il volume Un Lager ai piedi dei Carpazzi di Musilek Romano Victoria. Giovedì 24 gennaio alle 10.30 e sabato 26 alle 21 al Conservatorio di Torino due concerti dedicati alla musica degli esclusi, brani e composizioni degli autori vietati durante gli anni della dittatura nazista. Ancora giovedì 24 gennaio alle 17 a Palazzo Lascaris verrà presentato Auschwitz dall'alto, progetto multimediale che racconta con le tecnologie 3D le condizioni di vita dei deportati nei campi di sterminio. Domenica 27 gennaio alle ore 10.30 in via Madama Cristina prenderà il via la terza edizione di Run for Mem, la corsa attraverso i luoghi della memoria. Martedì 29 gennaio alle 10 al Sermig l'incontro del Laboratorio di Cittadinanza Attiva per le Scuole dedicato all'ottantesimo anniversario delle leggi razziali. Giovedì 31 gennaio alle 20.30 al Conservatorio di Torino Songs for Eternity, spettacolo di musica e poesia dell'artista tedesca Utelemper. Lo spettacolo sarà replicato al Teatro Toselli di Cuneo venerdì 1 febbraio alle ore 21.00. Sempre al 1 febbraio al Polo del Novecento alle 11.30 Utelemper incontrerà i ragazzi delle scuole torinesi. Programma dettagliato su www.cr.piemonte.it